Questo è lo sgombro. Lo sgombro si presta a tutta una serie di preparazioni. Una delle caratteristiche di questo pesce è che è molto pensata. E togliete le branche, perché le branche bisogna sempre toglierle se lo fate intero. Lo sciacquate ben bene sotto la fontana. Allora, in una pentola, anche al forno, basta soltanto mettere dei pomodorini tagliati a metà, un filo di olio, praticamente 10 minuti al forno a 180 gradi, si tira fuori ed è pronto. E anche lo sgombro si presta ad essere sfilettato e poi ad essere fatto in mille modi. Prendiamo il nostro filetto, passiamo sopra olio, un pizzico di sale, ricopriamo di pangrattato, un altro filo di olio. Praticamente questo qua si mette in una taglietta al forno a 180 gradi, una decina di minuti, poi si fa una bella insalata di pomodori. Si serve, si serve così. Vedete, uno straordinario seconda, ovviamente con un food de costa che è malestissimo. Grazie. Grazie a tutti.